Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al mio canale, io sono Davide e buon Ferragosto. Che cosa succede sul mercato delle criptovalute? Allora, proprio il Ferragosto ha fatto segnare un calo assurdo, praticamente è finito ieri e stamattina ha dato proprio il picco massimo, logicamente in rosso, di una scalata, anzi in negativo, quindi di un drop, di addirittura il 13% su Bitcoin. Ma andiamo a vedere direttamente sul mercato. Allora, vediamo Bitcoin che momentaneamente segna 10.070 dollari. Abbiamo una market cap di 263 miliardi e 400 milioni con una dominance del 68.4%. Negli ultimi 7 giorni Bitcoin ha fatto addirittura un meno 14, come vi ho detto ha fatto un meno 13 negli ultimi 3 giorni, ma andiamola a vedere direttamente su TradingView. Allora, abbiamo settato le candele a un giorno, quindi il time frame giornaliero e andiamo a segnare da questo punto fino allo spike. praticamente ha fatto un meno 14,33 ma fino al, diciamo, alla chiusura della candela, quindi tutto il corpo, ha fatto un 13, circa 50. E in questo momento sta creando un dojo, ossia nient'altro che una piccola candela, una candela con un corpo molto piccolo, ma con degli spike importanti. Io ho investito, in effetti, ho investito, ho fatto un bid a, come potete leggere qui sotto, a 10.155, perché in questo momento, andando a toccare questa resistenza blu, della quale avevo già parlato, e praticamente non è nient'altro che la resistenza di 10.000 dollari, è molto difficile in questo periodo che riesca a scendervi sotto. Momentaneamente c'è stato un calo fino addirittura ai 9.400 in positivo, cioè in acquisto c'è stato un acquisto addirittura ai 9.400 dollari. Andiamola a vedere sulle quattro ore e possiamo tranquillamente vedere che cosa sta succedendo. Bitcoin in questo momento ha fatto segnare addirittura un acquisto a 9.400 dollari, 470 dollari, ma il corpo principale si è fermato a circa 9.800 dollari. Tutto ciò comporta che il mercato sta mostrando che comunque si sta riprendendo. Ora, potrebbe essere tranquillamente questa risalita, ma andare a fare, ed è per questo che ho soltanto investito 100 dollari in un trade, andando a fare questa entrata all'incirca in questo punto, potevamo comunque guadagnare circa, vi faccio vedere subito, il 5%. Ora, il 5% potrebbe essere nulla, ma in un trade che durerà, per quanto mi riguarda, circa 3-4 giorni, avere il 5% è un buon risultato. Volevo comunque farvi vedere che ci sta quasi per riaccadere, anzi, sta quasi, non ci sta. Sta quasi per riaccadere un dead cross, ossia la 50 periodi che cross alla 200 periodi. Andando a vedere su il grafico a 100, possiamo vedere, scusate, un giorno, possiamo vedere come la 50 periodi ha incominciato a prendere un andamento in prevalenza in discesa. Quindi, in questo momento, potremmo vedere un andamento del mercato in discesa. Io, dal mio punto di vista, andando a rivedere i vari grafici, i vari livelli di prezzo, non sta nient'altro che facendo rimbalzare il prezzo qualcuno, perché ricordiamoci che momentaneamente nel mercato delle criptovalute ci sono 263 miliardi di dollari e, all'interno di Bitcoin, 179 miliardi di dollari. Basta pensare che Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo, ha come patrimonio netto 113 miliardi di dollari e, da questo, possiamo benissimo capire che basterebbero quei 3, 4, 5 ricchi che si sono messi d'accordo e hanno investito, diciamo, 20 miliardi di dollari all'interno del mercato di Bitcoin o, comunque, in generale, delle criptovalute per far spostare una criptovaluta in questa maniera. In questo momento, come stavo dicendo, ha incominciato a scendere, è arrivato al limite di 10 mila e ha avuto un rimbalzo verde rimbalzo verde che potrebbe tranquillamente far discendere come questo periodo, ma poi prevedo un rialzo ossia un rialzo che potrebbe, ancora una volta, andare a toccare il livello di, sì, potrebbe esserci dei 12 doll, di 12 mila o anche degli 11 mila in questo momento io andrei a pulire, logicamente, l'entrata e quindi a fare un 20%, ma il mio setting, momentaneamente, è dal 5 al 10%, sotto il 5 non vado a chiudere questo cos'è? È soltanto dei trading su Bitcoin un dei trading su Bitcoin è fatto, logicamente, senza mettere degli stop loss e senza mettere dei take profit questo perché non si sa realmente quanto ci può muovere il mercato l'unica cosa da poter fare è inserire, e vi farò vedere in un altro video, alcune notifiche all'interno di alcuni programmi come Blockfolio o quant'altro che vanno a segnalarvi con una notifica il momento in cui la criptovaluta sta arrivando a determinati livelli di prezzo che vi siete posti come attenzione in quel momento, quando la criptovaluta andrà a toccare quei livelli di prezzo arriverà una notifica e voi andrete a fare la transazione, logicamente, il trade con Binance direttamente sulla piattaforma andato poi, logicamente, a scambiare qualsiasi criptovaluta come volete quindi potete fare Bitcoin Ethereum o Bitcoin USDT e quant'altro io normalmente faccio Bitcoin USDT in questo periodo perché tutte le altre criptovalute non stanno facendo segnare buoni introiti quindi in questo momento non conviene andare a investire Bitcoin per poi guadagnarci in Ethereum per esempio in questo momento, secondo me, funziona così non conviene scambiare quindi criptovaluta Bitcoin per una qualsiasi altcoin mentre in periodi in cui le altcoin comunque si muovono nella stessa maniera di Bitcoin e quindi vanno comunque a incrementare in maniera esponenziale e fanno vedere che c'è interesse nel mercato allora c'è la possibilità di andare a scambiare Bitcoin per un altcoin ma momentaneamente, come vi ho fatto vedere, c'è il 68% di Dominance e quindi sarebbe veramente stupido andare a scambiare Bitcoin per qualsiasi altra criptovaluta per quanto riguarda l'aggiornamento di Ferragosto che praticamente è una cosa assurda dato che solamente ieri ha fatto segnare questa candela di addirittura allora ve la faccio subito vedere addirittura praticamente l'8% di drop un 8% in un giorno è praticamente assurdo per quanto riguarda il mercato delle criptovalute anche pur sapendo che comunque arrivano a fare addirittura il 10% o il 20% ma un 8% è già un segnale di avviso che nel momento in cui va a toccare la linea blu che sarebbe la linea di 10.000 dollari è il momento giusto per acquistare volevo acquistare un po' prima quando l'ho vista stamattina mi sono svelato era 9.600 dollari ma non sono purtroppo riuscito a fare l'acquisto sono arrivato troppo tardi e niente, ormai era a 10.100 ho acquistato a 10.100 perché tanto per quanto mi riguarda è ancora un prezzo molto conveniente e aspetto che salga fino a toccare i massimi che potrebbero essere 12 questa volta chiuderò questo trade non gli altri trade perché gli altri trade li tengo ancora aperti per guadagnare di più ma questo trade perché è un trade molto piccolo un trade che vado a fare come vi ho detto prima dei trading quindi un qualcosa di speculativo lo vado a chiudere appena andrà a toccare i 12 o appena mi farà vedere una candela negativa nel momento in cui prima di tutto è salito bene ragazzi grazie per aver visto questo video vi ricordo di mettere mi piace, di commentare qui sotto di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i video e poi di andare a visitare il mio account Instagram sul quale metto sicuramente tutti gli aggiornamenti appena posso grazie al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti